Palla lanciata lunga per uno tra Eto'o e Iuto, attenzione, Eto'o entra in aria, è chiuso, Pande, il tiro, è gol, 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 è gol del 3 a 2, sono 43 minuti ed è Goran Pandev che mette alle spalle di Sattiletta, è gol del 3 a 2, festa grande, ha munito Pandev che si è tolto la maglietta, dice scusi l'arbitro, prima vado a ringraziare Eto'o che mi ha messo una palla con scritto spingimi, e allora, ammunizione per Goran Pandev, guardate Eto'o come vince di esperienza il duello con Breno, e poi regala una palla con scritto spingimi a Goran, gli arriva sul sinistro, è il suo piede, non può sbagliare, è il gol, e adesso chiamiamo il cambio, chiamiamo un cambio, chiamiamo un cambio, subito, spezziamo ulteriormente il ritmo dentro Carja,